il numero 2 e vai ragazzo così si fa il numero 3 lo facciamo direttamente col corso eh sei convinto? non sei convinto? sei convinto e hai convinto anche lei! buongiorno ragazze ciao allora pronti prontissimi? sempre pronto, è morto pronto pure eh no morto no ma che cazzinio questo ragazzo? no 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 scaranzia eh ok 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 ci vediamo su ciao 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 scusa scusa sei pronto? è fuori ragazzo! occhi nei suoi, braccia lunghe, attira dalio! tira fuori passino, portate, bravo! ok allora capri passando, vai! ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.